Bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Retro Dilan, rubrica in cui parlo dei vecchi numeri di Dilan Dog e li recensisco per voi. Da qualche tempo ho avuto la fortuna di avere questo fantastico regalo, c'è un sacco di numeri a colori di Dilan Dog e sto approfittando di questo per fare dei Retro Dilan su dei fumetti di Dilan Dog che non ho letto. Questa è la volta di Goblin. Prima di cominciare se ancora non l'avete fatto vi invito a iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che amano i primi cento e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo fumetto e di questo video. Ebbene sì, Goblin è un numero che non avevo ancora letto. Non lo so, non mi ispirava come titolo, però ho voluto dargli una possibilità anche perché recentemente nella live che ho fatto con Kuro, Luca DJ e Umberto di Pellati e Fumetti, quando abbiamo fatto la tier list dei primi cento di Dilan Dog mi hanno parlato molto bene di questo Goblin e inoltre in questi giorni sto leggendo lo Spider-Man Collection, sto leggendo dei numeri dove c'è il Green Goblin. Allora per Phil Rouge ho detto ma sì, leggiamo anche Goblin, che se non erro dovrebbe essere il numero 43 della serie regolare, fatemelo sapere qua sotto nei commenti perché io appunto ho questa versione. Comunque è uno dei primi numeri, ma sicuramente successivo Ai Conigli Rosa Uccidono e adesso vi spiego perché ho voluto fare questa precisazione. Il numero ha un inizio di trama molto semplice, molto splatter, molto primi cento, addirittura primi cinquanta, ne sono molto contento di questo incip narrativo. Appunto vediamo un padre di famiglia che torna a casa dalla figlioletta orfana, a quanto si è capito orfana di mamma, e questo padre viene assassinato sulla soglia di casa da uno strano essere che sembra appunto un Goblin. È vestito in modo fiabesco, con un cappello a punta, un sopravvito verde ed è piccolino, è circa di 50 centimetri d'altezza, ricorda proprio un folletto o in inglese un Goblin. La scelta della Bonelli di usare il termine Goblin e non Folletto è perché Goblin ha un'accezione tipicamente negativa nel contesto anglosassone, mentre Folletto, da noi in Italia, può essere anche un essere benevolo, non necessariamente malvagio. Inizio classico per questa storia, la figlia appunto dell'uomo assassinato da questo Goblin va a chiedere aiuto a Dylan Dogg che accetta un caso in tutto e per tutto. Una cosa che a me piace, non un Dylan Dogg che si trova così, lì per caso, coinvolto dagli eventi in modo casuale, ma accetta il caso da una cliente, da una bella cliente che ovviamente si fa anche in questo numero, ma va benissimo così, perché siamo proprio nel clou di Dylan Dogg, dove ci sono tutti gli stilemi classici di una storia classica di Dylan Dogg che mi è piaciuta un sacco. Una storia classica, ma che è comunque avantissimo con gli anni. Voi che dite sempre, voi, la gente che dice sempre, ah ma i primi 100 erano, Dylan era in un certo modo, adesso l'hanno fatto diventare un radical chic, no, Dylan Dogg è sempre stato dalla parte degli oppressi, dalla parte dei mostri che non sono mostri, è sempre stato vegetariano, è sempre stato astemio, a parte nel suo passato d'alcolista, e è sempre stato in difesa degli animali in tutto e per tutto, non è mai stato esageratamente bacchettone, bla bla bla, è sempre stato così. E questa cosa mi piace un sacco perché in questo numero si nota come non mai. Questo goblin continua a commettere una serie di omicidi che sono veicolati tutti da un filo conduttore, che le vittime sono tutte parte di questa università. La scrittura di Chiaverotti mi piace tantissimo in questo numero, è il Chiaverotti del buio, mi piace proprio il suo stile di scrittura, mi piacciono anche i disegni di Dallagnol, che non manca mai di disegnare delle figure femminili sempre molto sensuali, sempre mezze nude, ma in un contesto dove è giusto che lo siano, quindi gente che esce dalla doccia e così via. Però ha un senso perché si rifà comunque agli stilemi dei film horror, dove le prime vittime sono sempre delle belle donne seminude. Abbiamo anche un Dylan che non si affida tanto al quinto senso e mezzo, ma che fondamentalmente è un bravo investigatore in quest'opera. È lui per primo che chiede perché non ci sono impronte dell'assassino, è lui che collega il fatto che siano tutte vittime della stessa università, tutti studiosi della stessa università. Insomma, è un bravo detective e mi piace vedere quando Dylan sa fare il suo lavoro. Graucio è il solito personaggio che fa battute, ma non contribuisce realmente alla trama, però devo dire che ciò nonostante, le battute che fa in questo numero, i giochi di parole che fa in questo numero, comunque sono molto molto gradevoli e non invecchiati male. Abbiamo anche la comparsa, il cameo di Botolo, il cane non cane di Dylan, cioè il cane che aiuta sempre Dylan ma resta pur sempre un randaggio e appare quando ce n'è bisogno, come se fosse una sorta di cagliostro benevolo in forma canide. Mi piace molto la presenza di, appunto, di Botolo, che non è affatto casuale, perché in questo numero si va proprio in protezione, in, diciamo, in amore verso gli animali. E infatti, nonostante una parentesi super fantasy che, appunto, mi ha fatto pensare ma siamo di nuovo nel mondo della fantasia, quello dei conigli rosa che uccidono, è questa parentesi che ci ha praticamente un po' sviato, no, dalla trama iniziale. Quindi se potevamo avere un percorso logico all'inizio, che aveva una certa base scientifica, no, o fantascientifica, io addirittura ho pensato che il padre di famiglia volesse tentare di clonare la moglie perduta, no, perché era l'unica cosa che poteva avere un senso in questi deliri, no, di questi universitari. Poi abbiamo questa spirale super fantasy in cui, appunto, c'è questo folletto che pare che voglia uccidere tutti gli scienziati perché non credono nella fantasia e questa cosa ci ha un po' sviato per poi andare a capire che in realtà questo goblin altro non è che una scimmietta, una povera scimmietta che è stata lei, questa scimmietta, a perdere la compagna, no, la scimmietta con cui condivideva la gabbia perché era stata vivisezionata da tutti questi studiosi universitari che hanno, appunto, sperimentato su di lei senza anestesia, aprendole la pancia e quindi fondamentalmente questa scimmietta superstite è scappata ed ha cercato vendetta. Ovviamente è una cosa surreale ma ha molto molto di impatto e soprattutto Dylan approfitta, una volta che scopre la verità, per far capire da subito da che parte sta Dylan. Dylan lo mette in chiaro fin da subito. La mia vita umana non vale più della vita di un animale. Se io sto rischiando la vita e salvare la mia vita dovesse costare la vita di un animale non vorrei assolutamente venire salvato a questo prezzo. Le parole di Dylan sono chiare, sono forti e solo al giorno d'oggi si sente parlare una persona fortemente animalista a questo livello. Era sicuramente un precursore dei tempi e questo numero mi ha davvero stupito tantissimo. Ovviamente io adoro gli animali e non posso che pensarla nello stesso modo in cui la pensa Dylan. Poi lo so che la verità non è solo così semplicistica, ci sono un sacco di sfumature di grigio anche nella ricerca scientifica, ma sicuramente sono contro la vivisezione, sono contro la sperimentazione animale ai fini crudeli, cioè quando si può fare a meno. Quasi sempre si può fare a meno, se non sempre. Potrei dire sempre se me ne intendessi di più di medicina e scienza. Resto sul quasi, proprio perché sto nella mia ignoranza. Comunque un fantastico Dylan Dog che tutt'oggi dà ancora esempio. è un po' il Johnny Freak degli animali questo Goblin e sono molto molto contento di averlo letto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero, se lo avevate già letto, se non l'avete ancora letto. In questo caso mi spiace che vi ho spoilerato se avete seguito fino a qui senza averlo letto. Quando l'avete letto la prima volta, che impatto vi ha dato? Se vi è piaciuto o se vi ha fatto storcere il naso e perché? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci. Al prossimo video. Al prossimo video.